Sono entrata a far parte dell'Associazione Nazionale Le Donne del Vino. Le donne sono importantissime nelle aziende perché più che ricercare gli obiettivi creano relazioni. È fondamentale l'apporto creativo delle donne all'interno dell'azienda. Proprio per questo ho progettato questa vigna didattico-artistica che ospiterà al suo interno un teatro e avrà dei satelliti che aiuteranno proprio il percorso esperienziale della degustazione attraverso gli occhi, il naso e la bocca. Fino al 13 marzo infatti le donne del vino realizzeranno una serie di eventi all'interno delle aziende proprio per festeggiare la donna all'interno dell'azienda, per ricordarci l'importanza della donna all'interno delle aziende. Il tema di quest'anno è proprio donne, vino e futuro e l'immagine proposta è quella di una bottiglia come contenitore di questo messaggio alle generazioni future. Vi aspettiamo in azienda per vivere queste emozioni insieme fatte di vino, arte e musica.